Una rassegna cinematografica, la prima canosa, dedicata al celebre concittadino Lino Banfi, promossa dalla Proloco di cui Presidente Elia Marro. Una rassegna cinematografica interamente dedicata al nostro grande orgoglio Lino Banfi. Buonasera maestro. Ciao maestro, sono troppo giovane per essere me. I miei maestri sono i vecchi. Allora mi scuso. Vabbè, rassegna, insomma, mio nipote con altri hanno deciso di fare questa cosa che era pure ora, insomma. Giocando giocando in questi 60 anni di carriera, proprio al mio paese, non c'ero mai stato per una rassegna di film. Per adesso è stato un assaggio. Infatti non hanno trovato manco uno sponsor, nessuno loro. Però quando adesso capiranno, si pentiranno, come hanno fatto molti giornalisti, e ci sarà la folla per fare l'anno prossimo un grande festival. Un appuntamento presso le suggestive terrazze del Palazzo Illiceto, immancabile per gli appassionati della pellicola comica italiana e i fan di Lino Banfi. Tre proiezioni in cartellone per ripercorrere la brillante carriera dell'attore d'origine andriese. Da Viene Avanti, Cretino, film del 1982, entrato ormai a far parte della cultura comune all'allenatore nel pallone. Film del 1984, dove il personaggio di Oronzo Canà fu ispirato alla figura di Oronzo Pugliese, storico e viscerale allenatore di Bologna, Roma e Fiorentina. Fino ad arrivare a Il Commissario Logatto, film del 1986, commissario scomodo, la belva di impreparazione poliziesca, in proiezione ieri sera. Quando feci film, 33 anni fa, io poi sono stato adesso, festeggiavo il mio cinquantesimo compleanno con Dino Risi, grande regista della Commedia Italiana, che aveva organizzato questa serata nella piazza di Favignana, a mia sorpresa. Fu molto bello vedere il popolo che partecipava. E 33 anni dopo sono stato a festeggiare l'ottantatresimo compleanno mio, il mese scorso, lì, con la piazza di Favignana, dove avevo girato il film Gremita di gente, mi ha fatto molto piacere. L'aneddoto più bello è stato che nel film c'è una scena all'inizio, quando io vengo mandato a Favignana perché sbaglio, addirittura interrogo il Papa, a Voitiva, e quindi mi cacciano fuori da Roma, mi mandano in esilio lì. Appena è arrivato c'è un bambino che dice che me ne siete venuti a fare a Favignana? E questo bambino, io non me lo aspettavo di rivederlo poi, 50enne, che è venuto vicino al microfono con un bambino piccolo insieme e mi fa che minchia sei... Allora gli do la voce, l'ho abbracciato e mi sono ricordato. Insomma è stata una bella rimpatriata, come qui a Canosa, sarà la stessa cosa perché il commissario Rogatto ricorda molto. Avremmo voluto fare con mio nipote il shushu, vola shushu, però non si trova la copia, c'è solo stranamente la copia in inglese, anche se io non parlo inglese, però esiste questa copia originale in inglese. Oltre 200 presenze ad ogni incontro che, tra curiosità e aneddoti raccontati direttamente dal protagonista di questa vittoriosa rassegna, hanno deciso di cogliere l'occasione della proiezione come momento di svago e di confronto. È andata benissimo, questa è la prima rassegna cinematografica che viene dedicata al nostro concittadino Lino Banfi, è un'iniziativa della Proloco che rappresento Pro Tempore, sono ben felicissimo come è andato. Questo è il terzo appuntamento, l'ultimo, e abbiamo avuto l'onore della presenza del nostro concittadino Lino Banfi. Riccardo Zagaria, direttore artistico della rassegna. Questa sera, ultima serata dedicata a questa rassegna, che ha riscosso grande successo. Sì, ha riscosso grande successo, l'abbiamo organizzata in pochissimo tempo grazie alla disponibilità della Proloco di Canosa nella persona del presidente. Ha riscosso un successo non indifferente. Oggi l'ultima serata, con la presenza anche di Lino Banfi, siamo più che contenti per un progetto futuro che sarà un po' più grande, poi ve ne parlerò con calma. Noi dobbiamo ringraziare i giornalisti come te, Marilena, io devo ringraziarti sempre per la tua disponibilità, ma tutti quanti perché è grazie ai giornalisti, grazie alle televisioni che comunque si va avanti con la pubblicità e gli eventi diventano belli.